Si definiva un angelo ribelle che si morde la coda, era un personaggio veramente singolare e solitario. Parliamo di Osvaldo Licini che ha vissuto buona parte la sua vita di artista nel suo paese natale, un piccolo borgo marchigiano, Montevideo Corrado, perso nelle campagne. Licini è stato uno dei grandi protagonisti del nostro Novecento e a lui è dedicata una mostra che in qualche modo ripercorre tutta la sua carriera, dai primi dipinti figurativi ai dipinti astratti e poi alla fine a questi dipinti piccoli ma visionari che sono popolati da personaggi di sua invenzione, gli angeli ribelli e le amalassunte. Ed è proprio per questa occasione del Cinquantenario della Morte che si torna a parlare di questo grande personaggio, un pittore astratto, fantastico, visionario, anche in qualche modo originale sui generis, che si definiva un angelo ribelle che si morde la coda. E allora per vedere che cosa l'angelo ribelle ha prodotto con tele e pennelli, una visita ad Ascoli Piceno e a Montevideo Corrado alle sedi della mostra è assolutamente da non perdere. E questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento con il Musa TV torna come sempre la prossima settimana. Se volete rivedere i nostri servizi potete farlo andando sul sito www.adncronos.com alla sezione Multimedia Musa TV. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.